Allora con Michele Magini salendo le scale di Palazzo Vecchio mi è colpito una tua considerazione Maggio che comunque l'anno dopo la promozione anche altre società come per esempio San Mignato, come Bottegone hanno conservato il nucleo di giocatori e hanno comunque fatto molto bene puntando proprio sull'entusiasmo è un po' anche questo quello che farà l'Enic quest'anno? Sicuramente sì, deve essere un nostro punto di forza, come ha detto anche prima Lapo durante la presentazione l'entusiasmo sarà la cosa fondamentale per noi, è una squadra giovanissima, 21 anni di media, siamo io e Marmucci siamo un po' gli zii, però è questa, è una delle chiavi di questa stagione io ho giocato l'anno scorso per la parte finale a Bottegone e conosco ragazzi a San Mignato e l'anno dopo che loro hanno fatto la promozione sono stati trascinati da questo entusiasmo, questa spinta questa fame che è quello che ci deve considerare contraddistinguere anche quest'anno in un campionato difficilissimo dove ci sono delle squadre favorite però c'è una grossa fascia centrale che è molto equilibrata e con tre retrocessioni partire da un gruppo solido anche se giovane l'entusiasmo è la cosa fondamentale Senti, non sei nuovo in quest'ambiente, sei tornato quest'anno però hai maturato tanta esperienza Lapo mi ha già detto che comunque un po' le chiavi in mano della squadra te le sei già preso ti senti un po' la responsabilità addosso di essere comunque un leader tecnico della squadra Sì, un po' di esperienza l'ho fatta, sono tornato a Firenze dopo 3-4 anni l'ultimo anno avevo già andato qui con la Palanestro Firenze, con Luca Paolini quindi sì, mi sento un po' di responsabilità addosso sicuramente essendo un gruppo giovane so quello che posso dare a livelli di esperienza a livello di una parola in più in un momento difficile uno sgridare ma sempre a cercare di migliorare tutti insieme io ho avuto la fortuna di giocare a Firenze quando avevo 16-17 anni con una squadra pazzesca che fece una semifinale playoff per andare in Serie A2 era una squadra stupitosa e io sono cresciuto in quella maniera lì con dei rimproveri, con tante pacche sulle spalle e mi ha portato a fare le mie esperienze in giro per l'Italia oltre per la Toscana e in questa squadra ci sono tanti giocatori che possono fare la mia stessa strada se non addirittura migliore quindi sono contento di essere qui e di avere questa responsabilità Ti chiedo le ultime due cose uno se Omegna nel Girone A fa un campionato a parte secondo te e poi una parola anche sul derby da Fiorentino saranno due partite speciali queste qui, diciamolo Sicuramente partiamo da Omegna al roster è la squadra più forte in assoluto perché è costruita bene, 10 giocatori un allenatore che conosco perché l'ho affrontato tante volte molto bravo in una piazza che negli ultimi anni nella 2, nella dilettanti è sempre stata molto ambiziosa è una squadra totalmente nuova però sicuramente penso siano i favoriti ci sta che però durante l'anno abbiano delle difficoltà perché comunque una squadra nuova ha sempre delle difficoltà e sicuramente Omegna è la favorita e sì, loro per quanto riguarda il derby sì, sono due partite speciali perché probabilmente non c'è mai stato un derby in Serie B a Firenze con due squadre tutti e due nello stesso campionato conosco dei giocatori dell'altra squadra con qualcuno, mi ci allenavo insieme come Davide Poltroneri conosco Matteo Motta perché abbiamo giocato contro siamo andati fuori insieme Mazzucchelli era orzi nuovo e abbiamo giocato contro Rosignoli e altri giocatori sono sicuramente un'ottima squadra sicuramente a noi sono più forti di noi però sarà bello secondo me saranno due partite una a San Marcellino e una in casa nostra dove conterà il risultato perché conteranno sono quattro punti in palio per tutti e noi cercheremo di fare il nostro meglio ma secondo me sarà bello vedere tanta gente sugli spalti perché a Firenze